Rewind to a time where our thoughts collide E tu da dove vieni entro? Io vengo da Treviso, ho avuto un passato di tossicodipendenza ed alcolismo Non ero più capace di provare nessuna emozione Cioè magari le provavo ma ne le primevo E poi che è successo? Tramite un frate salesiano mi è stata fatta la fatica domanda se fossi stato felice Io lì per lì ho pensato anche di sì Ma mi sono accorto che la vera felicità era il mio bisogno di sentirmi amato L'ho intropreso a fatica perché ci vuole anche fatica È un cammino comunitario Ho riscoperto l'amicizia, sto rilacciando un bellissimo rapporto con i miei genitori Mi sto riprendendo le mie responsabilità e anche la mia vita in mano Questa è bellissima E tutta questa gioia però non sarebbe più bella e sensata se io poi non la ridono a chi ha bisogno Magari fa il mio stesso urlo di aiuto È proprio bello Anto veramente questa testimonianza è stupenda Ti ringrazio Grazie a te, grazie a te, grazie a te